Ciao a tutti e benvenuti, tanti cari auguri, buon 2022. Dunque, alle spalle, il 2021, dovete sapere che per tutto l'anno ho convissuto con un numero tremendo. Vi devo raccontare che ho una fobia assoluta per il 21 e un amore totale per il 22. Perché il 21? Quando è stato operato alla Caviglia, a Van Basten, ad esempio, ho tanti episodi di vita mia personale. Il giorno 21 del mese tendo a non prendere mai appuntamenti, tendo a fare cose sempre di piccolo caboclo. Sapeste che cos'è accaduto il 21 dicembre di quest'anno? Non ve lo dico neanche. Non ci sto a tornare sopra, per carità di patria. Però, sapete quando è stato operato Van Basten, alla Caviglia, nell'operazione che purtroppo gli ha maledetto la carriera? Era il 21 dicembre, il 21 dicembre del 1992. Purtroppo era anche il numero di maglia del Tasso, di Mauro Tassotti, in un periodo della sua vita in cui la sua famiglia, tanti anni fa, è stata duramente colpita dalla sorte e dalla malattia. E' chiaro, non per quello, insomma. Però ci sono davvero tante, tante cose, ad esempio, quando il Milan ha interrotto la sua striscia di 58 risultati utili consecutivi tra il 91 e il 93, il 21 marzo in casa, 1-0 contro il Parma, gol di Asprì. Dice il 22, il 22 è tutto l'opposto. Il 22 è nato cacà, il 22 è il 22, il 22 è la finestra che si apre rispetto a tante altre cose. E quindi è così, sono, ripeto, fobie, manie numerologiche e non solo, che vi giro in inizio di 2022. Ci siamo, siamo sulla strada, siamo sul percorso, dobbiamo ballare, ragazzi, dobbiamo andare. Dobbiamo andare, dobbiamo affrontare subito tanti tornanti a inizio 2022. Le assenze di Chessy e Ben Nasseri, il calendario molto duro, una partita dopo l'altra, insomma, è dura, è dura, è dura, è dura, ragazzi. È dura e dobbiamo, in un modo o nell'altro, stringere i denti e farci trovare pronti. Dobbiamo essere quelli, dobbiamo essere quelli di Empoli, io sono convinto che anche senza Chessy trequartista, se abbiamo la testa di Empoli, la faccia di Empoli, non abbiamo fatto una partita meravigliosa. Mi dicono gli avversari, eh ma, merito di Vicario, scusa perché, perché, ma sì, il gol di Chessy, la barriera messa male sulla punizione di Florenzi, come se, quando vincessero le altre squadre del campionato italiano, nessuno fa errori delle altre squadre, solo quando vincevano. Va bene, ma questo, insomma, è un certo surrealismo al quale sono anche abituato e che fa parte del gioco. Noi a Empoli non abbiamo fatto la partita della vita, la partita meravigliosa, ma siamo scesi in campo con la guardia alta, con la spia del pericolo accesa. Mentre siamo scesi in campo belli, belli, sereni, in altre circostanze, che abbiamo più volte ricordato, a Empoli avevamo quella testa lì, quell'abito mentale lì, è quello che ci deve contraddistinguere fino al ritorno di Chessy e Benasserva la compaglia. Io ricordo Milan del 1996, quando UEA andò in Coppa d'Africa, scusate, UEA, con tutto rispetto perché si è Benasserva. E vincevamo lo stesso le partite, anche senza... Giorgio E.A., che quell'anno era di fatto, di fatto, l'attaccante di riferimento, perché poi, come altri attaccanti, avevamo Marco Simone, che aveva diverse caratteristiche, che non era una prima punta, avevamo Roberto Baggio, che era, poteva essere il falso nuove di oggi, Savicevic, quindi insomma, giocatori tecnici non avevamo, anche UEA era molto tecnico, per carità, però non avevamo, diciamo, che la punta era un pigliaccio con la quale sostituire UEA. Per cui, per cui, però, quel gennaio-febbraio 1996 andò benissimo. Poi lui tornò con la Roma, vinceremo 3-1, ma prima della Roma avevamo fatto, avevamo vinto a Udine, avevamo vinto in casa col Padova, ecco, avevamo pareggiato a Cremona, ma era uno 0-0 che probabilmente avremmo fatto anche con Giorgione in campo, perché era la classica giornata nella quale la tua palla non entrava. Poi Roberto Baggio aveva vissuto una settimana particolare a livello familiare, ma queste cose non le racconto. E quindi dobbiamo avere quella testa lì. Mi ha molto colpito, in chiusura di 2021, invece, l'intervista fatta da Paolo Maldini al 7 del Corriere della Sera. Mi hanno colpito molto alcuni racconti, quando con gli occhi di fuori dice Leonardo che cavolo dici quando Leonardo gli aveva annunciato che se ne sarebbe andato al Paris Saint Germain. Quel modo, ecco, la caratteristica di Paolo Maldini è che quando decide di fare un'intervista in cui racconta, racconta, racconta fatti. Zero retorica, tanti fatti. Quando racconta del colloquio che aveva fatto con suo papà a Città Studi, davanti al tavolo della cucina, dove vuoi giocare, dove vuoi andare, eccetera, eccetera. Oppure quando ha fatto tesoro dei consigli di suo papà. E ancora oggi, io penso che, anche se non entra nelle cronache, molte volte quando Paolo Maldini parla con i giocatori del Milan, con tutte le squadre del Milan, la femminile compresa, utilizza molto del bagaglio culturale, umano, calcistico, sportivo e spirituale che gli ha trasmesso suo papà. E quindi io lo ricordo Cesarone Maldini, lo ricordo. Lo ricordo che era stato ospite di una nostra trasmissione a Milan Channel il giorno dopo un grande derby vinto. Un grande derby vinto in casa 4 a 2 con l'Inter. A San Siro non giocava in casa l'Inter, quindi 2 a 4. E Terin era andato a festeggiare sotto la curva alla fine del derby. Cesarone mi disse in un orecchio il giorno dopo non mi è piaciuta l'esultanza alla fine. Vabbè Cesarone, però avevo vinto il derby. Sì, è vinto il derby, siamo tutti contenti. Ma non è da Milan per una derby è importante, ma è pur sempre una parita di campionato che l'allenatore vada sotto la curva ad esultare. Non è da Milan. Ecco, lui aveva questo concetto di non essere da Milan, anche da un concetto molto alto e sono convinto che Paolo lo riproduca quotidianamente nel suo lavoro e periodicamente quando deve parlare o a livello di confronto singolo, a livello di confronto collettivo e generale con gli spogliatoi delle squadre, della sua area tecnica, della sua divisione che comprende evidentemente la prima squadra maschile, la prima squadra femminile, tutte le squadre giovanili. Quindi insomma credo che siano concetti molto chiari e mi ha colpito anche molto quello che ha detto Paolo Maldini sullo stadio. Paolo Maldini non fa regali, non fa sconti. L'avete visto anche nei mesi scorsi, ancora verso la fine della scorsa stagione sulla Superlega, quello che deve dire lo dice. Quindi se Paolo Maldini dice figuratevi a San Siro, San Siro è stato la casa della mia carriera, ci ha giocato mio papà, ci ha giocato mio figlio, figuratevi come sono felice dal punto di vista sentimentale io di rinunciare a San Siro. Ma è inevitabile, dice Paolo Maldini. Guardando ai conti è inevitabile. Guardando ai numeri è inevitabile. Se vogliamo tornare competitivi in Champions League, segno che Paolo non lo dice, ma è un non detto molto chiaro, siamo già tornati competitivi in Italia, se vogliamo tornare competitivi, cioè competere ad alto livello per le prime piazze, in Champions League bisogna avere un nuovo stadio. E quindi mi sembra il sigillo finale, anche perché Paolo Maldini come nessuno sa essere trasversale, sa essere obiettivo, e sa essere freddo, lucido e sobrio anche sulle cose che riguardano i colori della sua vita, la sua maglia, la sua società, di riferimento, e quindi mi sembra il sigillo finale al dibattito, ma si domenta. E quindi mi sembra un concetto molto forte con il quale, ragazzi, apriamo questa lunga strada, questo lungo percorso, che ci condurrà attraverso il nuovo anno, attraverso il 2022. Ancora tanti auguri, a domani.